Henry eccoci amici e amiche di Player Inside con le news della settimana ancora un po' convalescente, sono ancora un po' sfatto come potrete vedere dopo due settimane che definirei piuttosto travagliate sigla Ma tu lo sapevi che a Catania è possibile acquistare il piano biennale di NordVPN a meno di 3 euro al mese? Esattamente come in ogni altra parte del mondo E stavolta è il compleanno di NordVPN e quindi vi facciamo uscire pazzi Acquistando uno dei piani biennali di NordVPN tramite il nostro link in descrizione riceverete 4 mesi extra E questi 4 mesi extra è possibile riceverli solo con il nostro link in descrizione perché non sono presenti sul sito Quindi link in descrizione 4 mesi extra Un coupon valido per 3 mesi di abbonamento gratis a NordVPN per chi volete voi Valido per il piano biennale che avrete acquistato Per esempio se acquisterete per voi il piano biennale che include NordVPN più NordPass riceverete 3 mesi gratis per un amico di NordVPN più NordPass Semplice Ed è un ottimo modo per fare provare finalmente NordVPN a chi non l'ha mai provato prima E vi garantisco che è un'esperienza straordinaria perché vi facciamo uscire pazzi Ci mettiamo dentro un sacco di pistacchio di bronte Ah e ancora c'è qualcuno che giustamente non sa che cosa sia NordVPN Vabbè, riassuntino NordVPN la più completa e veloce in Italia con server fisici a Milano e Roma E comprende anche Meshnet per creare la vostra rete cifrata, privata, per condividere file e tanto altro E Dark Web Monitor in modo che riceviate avvisi immediati nel caso in cui i vostri account vengano compromessi da malintenzionati come Pierpene Ovviamente NordVPN vi permette di nascondere l'indirizzo IP e la cronologia E NordVPN non tiene log e non traccia la navigazione E NordVPN ha kill switch È una funzione che fa in modo che se la vostra connessione VPN si interrompe accidentalmente Blocca l'accesso a internet fino al ripristino della connessione al server VPN E poi ovviamente si possono aggirare le geo-restrizioni, avere maggiore sicurezza anche in viaggio E si può accedere a promozioni speciali proprio grazie a NordVPN per viaggi, prenotazioni di hotel, auto, eccetera, eccetera, eccetera Inoltre ci sono anche Trade Protection, ovvero anti-malware e anti-phishing di NordVPN e NordPass Per creare e gestire la vostra password, carte di credito e dati personali in sicurezza Quindi ma che spacchio stai dicendo? Mare che ci vogliono un sacco di soldi per proteggersi online Bastano poco più di 3 euro al mese Ah e basta, tanto cielo Mi sono calato troppo nella parte, scusate Mi tocca riprenderla in mano Sto parlando delle pinze da rumor che finalmente ho ritrovato Nella settimana appena trascorsa si è insistito tanto sui rumor su PlayStation 5 Pro Lo sappiamo, sono solo rumor per adesso e come tali si trattano Ma sono di quei rumor particolarmente insistenti Così insistenti che poi magari, magari, alla fine, almeno un fondo di verità ci sarà Secondo gli ultimi rumor, PlayStation 5 Pro potrebbe essere il 45% più veloce di PlayStation 5 Standard Ed essere fino a tre volte più performante nel ray tracing Che dette così ste cose, sti rumor, 45% più veloce, tre volte più performante nel ray tracing Non significano assolutamente un ben amato caro Si è vociferato tanto sulla nuova tecnologia di PlayStation 5 Pro Ovvero PlayStation Spectral Super Resolution, abbreviato in PSSR Una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale Che permetterà sostanzialmente in maniera più agile alla console Di far passare la risoluzione a 1080p in upscaling a 4K in solo 2 millisecondi In buona sostanza, in maniera tale che la console possa gestire il framerate Nonostante la risoluzione aumentata in upscaling con una certa facilità Addirittura, sempre stanno ai rumor Avrebbe già un nome in codice Come accade per la maggior parte delle console in lavorazione Ovvero Trinity Si parla addirittura di 33,5 teraflops di potenza E, come già accennato, un acceleratore IA a parte Poi sempre in settimana si sono dette tante cose Che però così a prima vista sembrano anche un po' minchiate Per esempio supporto per la risoluzione 8K Ed altre cose di questo tipo Che, vabbè Jim Ryan Ma perché parliamo ancora di lui? Non si era tolto dal ca... Dicevo, Jim Ryan in un'intervista è ritornato sulla telenovela Dell'acquisizione Activision Blizzard da parte di Microsoft E si è detto molto felice di come siano andate le cose In particolare per l'accordo di 10 anni ottenuto da PlayStation per Call of Duty Che quindi per questo non potrà essere esclusiva Microsoft E noi siamo lieti Più che lieti che questa telenovela sia giunta alla fine Anche se qualcuno di voi si era affezionato alle nostre puntate E sicuramente Giacomo Raiano non ci mancherà Black Meat Wukong Uno dei titoli più attesi da parte nostra e da parte di molti di voi Per questo 2024 Si mostra con un nuovo trailer Che in realtà insiste soprattutto sui paesaggi bellissimi del gioco Così a vedere da questo trailer Con full retracing DLSS 3.5 Ovviamente in versione PC Con tecnologia Nvidia Il trailer arriva direttamente dalla GDC 2024 Da parte dell'azienda americana E c'è stata un'altra notizia Sempre in settimana Sempre su Black Meat Wukong Ovvero sulla localizzazione in italiano Almeno per quanto riguarda testi e sottotitoli Che fino a qualche tempo fa Anzi praticamente fino a qualche giorno fa Era esclusa Tra l'altro a tal proposito Oltre alla notizia più o meno ufficiale Perché su Steam Nella pagina di Black Meat Wukong Vediamo che adesso appaiono appunto i sottotitoli e i testi in italiano C'è arrivata in settimana una mail anche piuttosto inquietante Da un indirizzo Onestamente Strano Con questo testo Le autorità vi hanno ascoltato E Black Meat Wukong sarà localizzato in italiano Vorremmo prenderci certi meriti Ma onestamente dubitiamo che possiamo essere stati noi No? Annunciata la data d'uscita definitiva L'accendiamo di Multiversus Il picchiaduro free to play di Warner Bros Che si era preso una pausa di riflessione Il gioco uscirà il 28 maggio 2024 Con molti miglioramenti rispetto alla beta Cambiato anche il motore di gioco Che adesso è la Real 5 Aggiunte nuove tecniche E una modalità PVE Già nella vecchia versione il gioco aveva del potenziale Vedremo come andrà questo giro Resident Evil 4 Remake è stato un successo Oltre al plauso della critica E alla nomination per il GOTY Ha venduto ben 7 milioni di copie Così come comunicato ufficialmente da Capcom In un post di ringraziamento In tutto la serie Resident Evil Ha venduto ben 154 milioni di unità Fino al 2023 Una serie che amiamo e a cui auguriamo una lunga vita E un'altissima qualità come il Resident Evil 4 Il trend del ritorno al passato Ha toccato anche SNK Che di classici ne ha sfornati Infatti SNK ha annunciato di voler riprendere Una sua vecchia IP Che però non è un picchiaduro Andando ad esclusione In molti suggeriscono Metal Slug Per questo ritorno che non si sa cosa sia SNK starebbe collaborando con Arika Che sono quelli di Tetris 99 Pac-Man 99 E Super Mario 35 Un Metal Slug Battle Royale? Torniamo a parlare di Dragon Ball Spark in Zero Un altro dei titoli più attesi Per questo 2024 videoludico Poiché la rivista nipponica V-Jump Ha confermato la presenza di 164 personaggi Nel roster del picchiaduro E ne ha mostrati di nuovi Con degli scatti inediti del gioco Per quanto i personaggi promessi in totale Dovrebbero essere 164 Considerando però anche le varie trasformazioni Dei vari personaggi base Per il momento ne sono stati confermati Circa una cinquantina Considerando anche quelli pubblicati su V-Jump Far Cry compie 20 anni E per l'occasione Ubisoft ha pubblicato Un video celebrativo Che ci informa anche che sono stati 90 milioni i giocatori della serie Ricordiamo però che il primo Far Cry Non era di Ubisoft ma di Crytek Però in ogni caso si tratta di una serie Emblematica per Ubisoft sicuramente Una delle serie più famose Anzi scriveteci qui nei commenti Qual è il vostro Far Cry preferito Ma se vi conosco bene Mi aspetto una sfilza di tre Ultimamente si è parlato tanto Dell'esclusività di alcuni titoli Soprattutto dopo la mossa di Microsoft Che ha concesso almeno finora Quattro esclusive Precedentemente Xbox e PC Vabbè Anche a PlayStation 5 e a Nintendo Switch E ben invitandovi a commentare Su come la pensate Sulle esclusive E se effettivamente per voi Devono esistere Perché valorizzano una piattaforma Oppure se secondo voi Non hanno senso Nel 2024 Sean Layden L'ex CEO Di Sony Interactive Entertainment Ha dichiarato Che le esclusive Sono ancora relativamente importanti Ma non fondamentali Soprattutto per un brand Piuttosto noto Cioè sostanzialmente Sean Layden Ha voluto dire Se già PlayStation è famosa Se già PlayStation è forte Ed effettivamente per molti È sinonimo di console E vende moltissime console Ancora oggi Anche solo per il suo nome Non ha importanza Che abbia tutte queste esclusive Perché non deve più Farsi un nome Quindi è importante Che invece i suoi titoli Non rimangano esclusiva Ma arrivino anche Su altre piattaforme In maniera tale Sostanzialmente da vendere di più Sono curiosissimo di sapere Come la pensate voi Qui sotto nei commenti Io fino a qualche tempo fa Vi avrei detto Che le esclusive Effettivamente sono molto importanti Perché valorizzano una console E danno un senso All'acquisto di più Di una console Perché così io Su PlayStation Mi gioco determinati titoli Che non trovo su Xbox Su cui mi gioco Determinati titoli Che non trovo su PlayStation E poi c'è il Nintendo Oggi però Non sono più tanto sicuro Che effettivamente Le esclusive Siano così importanti E soprattutto Dati i costi Di certe produzioni Per certi videogiochi Farli rimanere poi in esclusiva Potrebbe essere Controproducente Per i guadagni Che potrebbero Non essere sufficienti Neanche Per rimediare I costi di produzione Stessi Fatemi sapere Come sappiamo L'E3 non esiste più Ma c'è ancora Il Summer Game Fest Che è quell'evento generalista Gestito da Jeff Keighley Il prossimo Summer Game Fest Durerà due ore E si terrà L'8 giugno 2024 A mezzanotte Ora italiana L'evento sarà fisico Se acquistate i biglietti Potrete andarlo a seguire Di persona a Los Angeles Se vi scocciate O siete poveri Potete seguirlo insieme A noi in diretta Sperando che non ci siano Troppe pubblicità E cringiate varie Non si fotte con Nintendo Questo ormai Lo sappiamo tutti C'è pure la canzone ufficiale Risentiamola Non è ufficiale Nintendo Stavo scherzando Mi raccomando Non vogliamo fottere con te Ci mancherebbe pure altro Ma a quanto pare Non tutti l'hanno capito E rischiano di fotticchiare Con Nintendo Parliamo della questione Yuzu vs Nintendo Che in realtà risale A una settimana fa Ma non ci siamo stati Con le news Quindi volevo dire la mia Ma la farò breve Sostanzialmente Yuzu L'emulatore di Nintendo Switch Per PC Non esiste più Gli sviluppatori di Yuzu Dovranno pagare 2,4 milioni di dollari Di danni a Nintendo Per chiudere la causa legale E peraltro È rientrato Anche in questa mietitura L'emulatore per 3DS Citra O Sitra Il fatto è che È una questione delicata Che ha fatto tanto discutere Nella fine della scorsa settimana Perché? Perché si è vista Un po' come Lo strapotere di Nintendo Contro la piccola Yuzu Che viveva dei contributi Dei Patreon Tanti contributi A quanto pare Se sono in grado Di pagare una multa Di 2,4 milioni di dollari Ma in realtà Come detto La questione più delicata E a quanto pare Più torbida Parliamo sempre Con il condizionale Poiché stando A quanto emerso Gli autori di Yuzu Non soltanto producevano L'emulatore Che in teoria Solo l'emulatore Sarebbe legale Ma Sempre a quanto pare Distribuivano ROM Raccoglievano dati Degli utenti Tramite telemetria Sempre stando Alle informazioni In nostro possesso In realtà pubbliche Alla portata di tutti Le ROM Sarebbero state Distribuite Attraverso il Discord Ufficiale Di Yuzu E questo Diciamo Che mette Gli sviluppatori In cattivissima luce Perché Un comp È appunto Sviluppare un emulatore Che fino a prova contraria È legale Ma distribuire Le ROM Peraltro In anticipo Rispetto alle uscite Ufficiale Dei giochi È qualcosa Di molto più delicato E questo Ha fatto pensare E così hanno scritto Molte testate giornalistiche Che Yuzu Abbia accettato Di pagare Questa salatissima multa Proprio per chiudere il caso Perché se si continuava Ad andare avanti Con la causa Finiva male La rivista inglese Retrogamer Ha stilato una lista Dei 100 migliori giochi Di sempre Retrogame appunto Ma che cosa Si intende per Retrogame La rivista L'ho spiegato Sono stati presi In considerazione Tutti i giochi Usciti prima del 2007 E nella generazione PS2 Gamecube E Xbox Insomma Al primo posto Troviamo scontatissimo Tetris Al secondo Doom E al terzo Super Mario 64 Al quarto Street Fighter 2 E al quinto Zelda Ocarina of Time Poi beh La classifica è lunga Sono 100 titoli Ma li state vedendo Rapidamente Qui adesso Nella lista ci sono Tutti i classici Immortali Che hanno segnato In maniera indelebile La storia del videogioco Dal 19 marzo Il catalogo PlayStation Plus Extra E Premium Si arricchirà con NBA 2K24 Copybriant Edition Marvelous Midnight Suns Resident Evil 3 Remake LEGO DC Super Villains Mystic Pillars Remastered Blood Bowl 3 Super Neptunia E Dragon Ball Z Kakarot Versione PS5 Inoltre entreranno Nel catalogo dei classici Del piano premium Jack and Exeter Sfida Senza Confini Cool Borders God Eater Burst Phoenix Wright Is Attorni Trilogy E Jojo's Bizarre Adventure Soul Star Battle R A partire dal 21 marzo Su Epic Games Store Saranno gratuiti Per una settimana Il simulatore di pesca Call of the Wild The Angle E Invincible Presents Atom Eve E adesso la sottorubrica Preferita da tutti Ma in particolare Da quelli che Ogni tanto Ci fottono con Nintendo E gli piace pure New Sarat Stetter Blade Stellar Blade E' quasi possibile Denudare la protagonista Anche senza mod Poiché c'è una sorta Di skin suit Che effettivamente Fa sembrare nuda La protagonista O quasi Ma Dicono gli sviluppatori Se vorrete usare Questa skin Il gioco diventerà Più difficile Perché sostanzialmente La protagonista Eve E' come se non avesse Un'armatura O come l'impressione Che questa volta Pur morendo Settemila volte Nessuno si lamenterà Dell'accessibilità Di questo gioco E voi lo sapevate Che Super Monkey Ball Banana Splits Per PS Vita Del 2012 Aveva un DLC Piccante Con il modello Della Idol Yuki Kawamura Ora Non è che fosse Troppo esplicito Se escludiamo il fatto Che la palla di Monkey Ball A un certo punto Entrava tra le tette Della modella Vabbè Andiamo avanti E voi la comprereste Questa Xbox Series X A tema SpongeBob Io no Onestamente Non sono così fan E poi non mi fa impazzire Comunque Casomai voleste acquistarla Vi costerebbe Su Best Buy Circa il doppio Di Xbox Series X Normale E voi lo comprereste Invece Questo controller A tema Fallout In realtà Non si tratta Di un controller Dedicato Ma di una serigrafia Che potete trovare Su Xbox Lab Ovvero lo store Di Microsoft Per personalizzare I vostri control Di Xbox Series X S Bello eh Però quel Voltman Messo lì Un po' mi scaca Nelle scorse settimane Si è fatto un gran parlare Di Fleximan Chi è Fleximan Una sorta di antieroe Che ha tagliato Di netto Degli autovelox Con il Flex Appunto Per protesta Contro la polizia municipale Ebbene Esiste il gioco Più o meno ufficiale Fatto da un italiano Serio studio La valutazione Sembra pure Molto positiva E nel gioco Sostanzialmente Dovrete andare in giro A tagliare via Gli autovelox Ed altro E c'è tanto di macchina Della polizia Non è neanche lontanamente L'idea più folle O stupida Che abbia mai visto eh James Lambert Autore di altri progetti Vi invitiamo a visitare Il suo canale È riuscito a collegare Un visore VR Della prima generazione Di Oculus A Nintendo 64 Non è che ha reso In VR Più o meno I giochi per Nintendo 64 Su un PC O una cosa del genere Ha proprio attaccato Un visore VR Oculus Della prima generazione Sul Nintendo 64 Che quindi È stato modificato Per accogliere Anche una porta USB E poi ci sono io Che non so fare un cazzo E anche per questa settimana In particolare Questa settimana Con una grande motivazione Perché vi ringrazio Per tutti i bellissimi commenti Che mi avete mandato Di supporto Perché effettivamente A sto giro È un po' di È un po' di Cagarella A me è venuta In tutti i sensi Però ecco Sapete quando uno Un attimino dice Vabbè Può darsi che stavolta Ci lascio le penne Comunque Sono cose che si pensano Comunque grazie Grazie a tutti Per il grandissimo supporto Per i commenti Di pronta guarigione Adesso sono di nuovo qui Speriamo Di non avere ricadute O altro Perché effettivamente Stavolta è stato devastante Non ve lo auguro mai Neanche al mio peggior nemico Vabbè al mio peggior nemico Sì Sti cazzi Alla fine sono ancora vivo Almeno per ora Per ora Grazie Grazie a tutti